Ciao ragazzi, andiamo a vedere come inserire qualsiasi e quando dico qualsiasi dico proprio qualunque tipo di vite in Fusion 360 tramite un plugin che non preoccupatevi non dovrete installare ma è già installato in Fusion 360 tra l'altro su questo plugin voi potete scegliere tutte le viti che vi serviranno nel progetto anche se non ce le avete e potrete andarle con un clic a ordinarle e vi verranno spedite a casa questo è molto vantaggioso perché potete andare a creare un progetto per esempio da poi stampare in 3D e vi ritroverete a casa dopo qualche giorno anche le viti prima di tutto abbiamo un progetto così solo per facilitarci per poter andare a inserire una vite proprio qui e andiamo a scoprire il diametro del nostro foro tramite lo strumento Measure clicchiamo sul diametro e uscirà che è un diametro di 4,5 ok fatto questo dobbiamo andare su Insert e poi Insert MMC Master Car Project clicchiamo qui e come vedete possiamo scegliere non solo viti ma anche viti senza fine, spilli, rivetti, dadi, un sacco di altre cose però oggi ci focalizziamo sulle viti e i bolloni quindi clicchiamoci su e andiamo a inserire come sistema di misurazione i metri se poi siete più abituati ai pollici andate a misurare i pollici qua possiamo inserire la dimensione della filettatura ma probabilmente noi non la sapremo quindi dovremo andare a prendere la nostra vite e andarla a misurare per esempio io so che la vite che voglio prendere un oggetto ha una dimensione da qui a qui di 10 mm e già avendo tutte le viti da 10 mm gli dico anche che la mia è una vite a testa piatta con la parte da pitare a croce e il diametro della testa è di 8 mm ed ecco qua che ci ha trovato la nostra vite quindi a questo punto ci basterà cliccare sull'immagine ingrandire qui se è un po' stretto e potremmo direttamente ordinarli da qua adesso andiamo su product detail dove possiamo andare a vedere proprio i dettagli di questa vite tutti i valori, qual è il diametro della testa, l'angolo della svasatura diciamo ma per inserire il nostro progetto dobbiamo andare a cliccare qui e cliccare su 3D step che è un file che Fusion 360 riesce a leggere quindi clicchiamo su save e se aspettiamo ecco qua la nostra vite che si presenta adesso io la sposterò qui ed ecco qui la nostra vite come vedete la vite che proprio avevate tra le mani perché l'avete scelto voi il diametro eccetera per spostarla all'interno del buco già che ci siamo ve lo faccio vedere prima di tutto vado a rinominare questo in vite faccio tasto destro move copy vado qua su point to point e allora vi dico che questo vado a selezionare questo cerchio che sta alla fine della svasatura e premendo control vado a selezionare il centro poi vado qui e premendo control vado a selezionare il centro ecco qui che la vite tra virgolette si teletrasporta in posizione e come vedete è delle esatte dimensioni che serviva a me e così potete aggiungere le vite al vostro progetto in modo tale da renderlo più completo oppure da fare proprio simulazioni sul campo per esempio se dovete creare degli apparati da stampare in 3d per esempio che poi dovrete andare ad attaccare al muro e sapete la dimensione per esempio della parete e quindi non volete esforare dovete scegliere una vite adatta la scegliete direttamente sul software e poi l'andate a scovare se ce l'avete se non ce l'avete l'andate direttamente a ordinare perché come ho fatto vedere prima in questa scena qua che vi rimetto vi dà tutti i dettagli della vite quindi voi potete semplicemente andare su Amazon scrivere il codice della vite o comunque tutti i valori e automaticamente vi si presenterà la vite che potete acquistare ovviamente su Amazon non ne potete acquistare una come potreste fare al brico ma in ogni modo potete anche scegliere una vite che già c'avete come ho fatto io qua questo mini video è finito noi ci vediamo giovedì prossimo spero che questo video esca giovedì perché forse non ce la faccio ad editarlo un altro video comunque vi ringrazio visto che vi è piaciuto molto il video della Foway su 30 e quindi vi ringrazio